Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo questa maglia, un'anticipazione non ancora ufficiale per la stagione che sta iniziando, non per la stagione, per i prossimi, per la Coppa America. Questa è la seconda maglia dell'Argentina in edizione Player. Grazie per la visione! La maglia è veramente molto molto bella. Devo dire che mi piace più della prima che abbiamo già visto e trovate la recensione qui sopra. Qualità ottima! Mi piace questo motivo che ha nel tessuto Adidas che sta proponendo per la stagione nuova. Non è ancora ufficiale ma se questa sarà la base devo dire che è molto bella. Il costo l'avete visto, la qualità è ottima, tempi di spedizione più che buoni, 3-4 settimane, direi che è un affare da non perdere. Scrivetemi nelle recensioni cosa ne pensate, fatemi sapere quale maglie volete vedere. Per oggi è tutto, alla prossima! Grazie a tutti!